Noi al momento siamo a conoscenza che il nostro centro deve ospitare i solo 25 che sono arrivati ieri. Per gli ulteriori 25 fino a questo momento non abbiamo nessuna conferma da parte della Prefettura. Questo purtroppo è un problema che va comunque gestito. Noi come amministrazione comunale non è che possiamo avere e non abbiamo facoltà di impedire questo modo di gestione che è di diretta competenza della Prefettura e quindi del Ministero dell'Interno. Oltre a questo io credo che comunque non ci si può girare dall'altra parte, bisogna gestire questo problema. E quindi credo che noi dobbiamo fare il possibile per fare in modo che la gestione di questo problema non arrechi danni e preoccupazioni a volte ingiustificate nella popolazione. Quindi noi saremo vigili su come verrà gestita tutta la gestione della problematica. Saremo sempre presenti nei tavoli della Prefettura con Sua Eccellenza il Prefetto per garantire che il tutto si svolga in maniera meno indolore possibile da parte di tutti. Ma allo stesso tempo siamo responsabili e siamo amministratori responsabili e sappiamo e capiamo benissimo che è un problema che va gestito.